Maria Angela Cicarese è un oncologo che lavora alla Rete Oncologica Pugliese. Maria Angela, qual è la situazione dell'utilizzo dei tergenomici nella Regione Puglia? Ok, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Prima di tutto posso dire ad oggi che la situazione è abbastanza uniforme all'interno di tutte le prospettive Pugliesi. L'ultimo dato inviato al Ministero, il numero dei testi genomici ci attessa intorno ai 393 test effettuati. Sono ancora un po' al di sotto dell'atteso, ma verosimilmente questo è legato anche alla scelta nelle singole pressi unit dei professionisti. È stato un percorso che abbiamo dovuto attuare in più tappe perché non avevamo una situazione uniforme in tutte le pressi unit pugliesi, quindi dal 2021 ad oggi come Rete Oncologica abbiamo cercato di portare tutti gli adempimenti in regola in maniera tale da poter dare questa opportunità a tutte le pazienti. Che naturalmente fosse un diritto esigibile, questo era ben chiaro sin dall'introduzione dei test genomici, per la loro utilità, anche per la possibilità di evitare sovratrattamenti alle pazienti nello stato intermedio, ma immediatamente questo non era chiarissimo né come fare né come utilizzare i fondi all'interno di tutte le pressi unit. Diciamo che per la Rete Oncologica Pugliese il vantaggio è stato avere già fatto un percorso di comunità professionale all'interno delle pressi unit, perché noi abbiamo dal 2018 già deliberato 13 pressi unit regionali e questa comunità professionale è una delle più forti all'interno della nostra regione, sono quelle articolazioni che maggiormente sono sensibili anche alle indicazioni che vengono date a livello regionale. Per cui abbiamo dovuto come Rete Oncologica innanzitutto adeguarci alle indicazioni ministeriali, definendo bene che la validazione dei test deve essere effettuata nelle pressi unit e sottolineando anche che tutti i centri periferici devono validare l'indicazione e come sapete la chimioterapia viene erogata anche in centri periferici, non solamente all'interno delle pressi unit, ma questi centri devono essere connessi con le pressi unit per la validazione dei test e questo forse è stato l'elemento più importante su cui abbiamo dovuto lavorare. una volta validati naturalmente come effettuarli, perché avevamo situazioni un po' più virtuose, magari hub di riferimento, IRCS, che erano già schillati, avevano già avuto esperienza anche perché avevano già delle convenzioni anche in estere con tipologia di test e situazioni un po' più pubbliche possiamo dire, no, ASL eccetera, che però contenevano le pressi uniti e avevano necessità di adeguarsi. Quindi abbiamo fatto questo percorso culturale, passato un po' a step, quindi se noi abbiamo avuto, partecipato anche ad altri eventi in cui le stesse associazioni ci manifestavano il disagio per avere delle situazioni macchie di leopardo, tra le quali abbiamo preso un po' in carico anche la situazione e cercato di portarle a regime. Oggi sicuramente tutti conoscono le procedure, tra l'altro il nostro hub di riferimento della rete oncologia e l'IRCS oncologico di Bari ha terminato l'accordo quadro a giugno 2023, quindi il punto di snodo per l'erogazione dei test a cui tutte le prese fanno riferimento e sicuramente siamo finalmente sulla strada giusta, cioè non è uno di quegli eventi che dobbiamo monitorare, ma sicuramente abbiamo fatto partire. È stato anche un precedente importante anche per capire come poi si va a collocare l'innovazione all'interno delle articolazioni, perché il test genomico è stata un'innovazione sicuramente a vantaggio delle pazienti, è un esempio di civiltà, di come si possono rendere i trattamenti più targeted e più a misura della situazione al rischio delle pazienti, ma questo ci ha portato anche come rete, io parlo anche a nome della rete oncologia, a capire anche come in qualche modo portare tutte le comunità professionali, indipendentemente dalla sede in cui agiscono, a livello di poter accettare l'innovazione, di poterla incorporare e renderla frugibile per i pazienti quando naturalmente i dati sono forti ed è un diritto esigibile.